Nella morsa del Covid, adesso la pandemia torna a far paura anche al mondo dello sport. Il rinvio di Milano-Virtus-Bologna di basket e lo stop al campionato italiano di Serie B fanno tornare alla mente lo scenario di marzo 2020, quando tutto si fermò e per il rientro in campo, soltanto nel calcio, fu necessario aspettare la metà di giugno. Questa volta la situazione è diversa, anche perché è diverso il mondo che ci circonda. Ma arriva una stretta dal governo anche per gli eventi sportivi e per gli spettatori. Primo punto approvato dal nuovo decreto firmato da Draghi, obbligatoria la mascherina FFP2 sia negli stadi che nei palazzetti, così come obbligatoria era già il Green Pass. È il primo punto che cambia, ma restano aperti gli impianti sportivi, al contrario di quello che frettolosamente qualcuno avrebbe voluto stabilire già all'inizio di questa ennesima ondata. Nei palazzetti inoltre è vietato mangiare, negli stadi invece sarà ancora possibile. L'unica obbligatorietà è quella della mascherina FFP2, che protegge filtrando le particelle in modo diverso rispetto alla chirurgica. La capienza però resta al 75%, e da Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, arriva l'avvertenza valida per tutti, controlli più severi per evitare ulteriori restrizioni. Già, perché questo potrebbe essere anche soltanto il primo passo. Lo scenario preoccupa, l'Italia è di nuovo nella mossa del Covid e lo sport non scappa. Tanto vale organizzare i controlli e rispettare le regole per evitare di tornare a quelle tristi e desolanti scene di stadi vuoti.